Aloe arborescens, la pianta che depura, aumenta le difese, combatte lo stress e cura L'Aloe arborescens è una pianta che viene usata per lo più per fini estetici e ornamentali, eppure in pochi sanno che è ricchissima di benefici per la salute Usata da millenni nella medicina tradizionale di molte culture asiatiche, le proprietà terapeutiche dell'Aloe arborescens sono state verificate da decine di studi, e vengono apprezzate in tutto il mondo Il tipo di aloe può essere usato come integratore alimentare. È ricchissimo di nutrienti fondamentali per il nostro organismo, e contiene principi attivi che proteggono e curano il corpo. L'integratore di questa pianta viene spesso consigliato come rimedio ringiovanente e depurativo L'Aloe arborescens favorisce l'eliminazione delle tossine, e crea una membrana che protegge le pareti intestinali e impedisce l'assorbimento di sostanze nocive. Inoltre, essendo ricca di composti antinfiammatori e antibatterici, aiuta ad aumentare le difese . Questa pianta è un perfetto alleato anche per il sistema digestivo. Oltre a favorire le funzioni intestinali, stimola la flora batterica e l'eliminazione dei residui. Queste proprietà rendono l'Aloe arborescens un eccellente rimedio per contrastare gli effetti secondari dei farmaci sull'apparato digerente. . L'applicazione cutanea dell'Aloe arborescens aiuta a calmare il fastidio causato da punture di insetti o ortiche. Può essere usata anche per alleviare le scottature solari. Ha proprietà dermoprotettrici, idratanti ed emollienti. .